Lì riesce con Vemenza a recuperare la sfera, a cercare del Zalatest, effetto il dribbling anche con un tunnel, il cross di Sciala al centro, Dionigi gol, gol, gran gol del Taranto, gol, che gol, che gol, brividi, un grandissimo gol del Taranto. Che salta in velocità un paio di avversari, e scodella al centro un cross per Dionigi, che ha il volo di collo piede sinistro, fulmina aridità, realizzando così il gol dell'1-0, una rete bella per elaborazione ed esecuzione, che consente al Taranto di sbloccare il risultato, e a Dionigi...